Mi mancavi, è normale? Mi vuoi bene, vero? Ahu, 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 devi donare due euro per fare questa cosa qua e l'ho fatta io per il sintetizzatore. Ti mancavo? È normale, certo, perché se mi vuoi bene e ti trovi bene con me è normale. Ma chi sono i vatussi? I vatussi sono gli altissimi... Com'era che faceva la canzone? Gli altissimi... Bro, siamo... Gli altissimi... Non mi ricordo. Ciao Sdrumox, puoi salutare il mio amico Furia e tutti i jaguari? Certo, ciao Furia a tutti i jaguari. Grazie del tuo sub, grazie, grazie. Grazie dei 10 euro Dragaris e quello là è un brutto ricordo che solamente pochissimi di voi ricorderanno. Gli altissimi...